Ciao ragazzi, ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Allora, la luce non è più proprio il massimo perché io ho acceso il telefono circa mezz'ora fa, quindi il get ready doverà già essere finito, in realtà mi sono persa a guardare uomini e donne nel trono di Teresa e quindi praticamente è passata mezz'ora e neanche mi sono accorta, qui vedete Fifi che si diverte a giocare con me, ve la faccio vedere, ciao e niente, ce l'ho in braccio perché sennò distrugge la casa. Allora, nel frattempo però ho approfittato per farmi un minimo di base così almeno possiamo parlare direttamente del trucco occhi e degli ombretti perché oggi andremo a utilizzare la palette iconica per questo get ready. Allora, per la base ho utilizzato questo fondotinta che è di Max Factor, si chiama Healthy Skin Harmony Miracle Foundation, mi piace un sacco la sua consistenza però ho sbagliato il colore perché è un po' scuro, non fa niente, adesso lo penso lo utilizzerò piuttosto all'estate però devo trovare un altro un po' più chiaro oppure devo comprare proprio quello più chiaro perché questo è leggermente scuro. Come correttore ho utilizzato questo qua di Essence che è un po' vecchiotto però dovevo finirlo e quindi l'ho utilizzato, ho utilizzato questo, voglio finirlo e ho fatto leggermente le sopracciglia con la matita di Essence, anche questa vecchissima perché io le sopracciglia in realtà non me le faccio quasi mai, se guarda è perché c'è la gatta di là che è scappata e quindi questo. Sulle labbra ho il vivi verde di Coop, ho messo leggermente un po' di terra, niente di particolare e un po' di burro cacao che l'ho detto e basta, il blush ancora non l'ho usato perché sinceramente non so neanche che ombretti andrò a utilizzare. La palette di cui tutto il web parla è questa, iconica, di CosmaFye che è una palette fantastica, io la adoro, mi piace tantissimo, la sto utilizzando da una settimana, ho fatto tutti i rucchi con iconica praticamente e ha degli ombretti veramente stupendi, non li ho ancora utilizzati tutti, qua c'è il suo pennellino ma è sporco praticamente perché l'ho utilizzato e l'ho lavato 300 volte già, comunque la palette è questa, sicuramente l'avete vista e mi piace tantissimo, principalmente perché ha questa selezione di colori rossi, rosini, questo che si chiama Naomi che praticamente fanno risaltare tantissimo gli occhi azzurri, quindi io la adoro. L'unico colore che forse mi piace di meno è Audrey, questo color petrolio, non tanto per l'utilizzo perché l'ho provato soltanto una volta per stare in casa, quindi in realtà non è che abbia questa grossa, l'ho utilizzato così tanto, è molto pigmentato, è proprio il tipo di colore che su di me non è che proprio mi fa impazzire. Mi piace tra l'altro questa palette perché ha questo color burro e questo marroncino qua che anche da soli mi risolvono i trucchi, quindi mi piace veramente veramente tanto, ho utilizzato solo questa quando l'ho acquistata perché veramente l'ho adorata. Allora adesso io andrò a truccarmi con questa palette, non ho messo nessuna base, vi farò poi un video proprio recensione riguardante questa palette, utilizzo lo specchio proprio della palette perché non ho preso lo specchio e vado a utilizzare Audrey, Angelina scusate, questo qui, su tutta la palpebra mobile per uniformarla. Non ho utilizzato nessun primer, neanche vado a metterlo per farvi vedere proprio come sono i colori quando li mettete sull'occhio. Allora senza primer, dopo un po' di ore comunque il colore un po' si spegne ed è normale, però se li utilizzate con il primer mi dura veramente tutto il santo giorno. Questa paletta secondo me è fantastica, il colore che io adoro proprio è Kate, questo qui Kate, che ha questo rosa bellissimo, sia in transizione sia da solo è bellissimo. Allora iniziamo, vado a mettere appunto Angelina su tutta la palpebra mobile. Vedete, già si vede tantissimo. Non posso utilizzare il suo pennello purtroppo perché come ho detto è sporco e semplicemente non so neanche che colori voglio utilizzare per questo pennello purtroppo. Io trovo che i miei ombretti opachi di questa palette siano di una qualità altissima. Vabbè, costa 50€ la palette, quindi comunque non è che è proprio basso il costo. Io l'ho pagata ancora scontata. Gli opachi sono fantastici ma anche gli shimmer sono molto molto buoni. Allora, sull'aria inferiore voglio andare a utilizzare Elton che è questo viola, che non ho ancora mai messo, l'ho provato solo in casa. Magari forse sulla parte su rimaniamo più neutri e poi sulla parte giù abbiamo un po' di colore. Allora, decido di andare a utilizzare questo colore, opra. Oggi faccio un trucco che è così, me lo invento. Sulla palpebra, questo giallo così. Guardate che bello. Anche se io di solito questi colori non è che li utilizzo tanto, sono sincera. Però oggi, siccome voglio utilizzare il viola e secondo me l'oro ci sta benissimo, vogliamo un po' di fare così. Quindi vado a fare intanto una prima sfumatura con questo colore. Vieni, Fifi. Dai. Dai. Facciamo prima un occhio e poi vado a fare io l'altro. E se no non finiamo più. Guardate che bello, che pigmentato. E comunque la mia fotocamera non è che abbia una super risoluzione. Quindi è veramente molto, 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 molto bello. Poi vado a prendere Sofia, che è questo marroncino qua, questo marrone qua. Sempre super scrivente. Però lo prendo con un pennellino un po' più piccolo. Perché voglio tenerlo un po' bassino. Non lo voglio tenere troppo alto. Quindi lo vado a posizionare sulla fine dell'occhio e lo vado a sfumare nella piega, rimanendo abbastanza bassa. Io prendo sempre pochissimo colore perché ad aggiungere viene sempre in tempo, ma poi togliere che diventa complicato. Questo pennello sinceramente non è che mi faccia proprio impazzire. Riprendo un po' di opera per sfumare. E questo. Guardate la scrivenza di questi ombretti. È fantastica. Vado ancora ad inspirare un po' la B dell'occhio. Dato che voglio ancora dare una sfumatura maggiore, aggiungo anche Yoko, che è questo color verdone, che mi piace proprio un sacco, che si trova proprio in mezzo alla riga. Questo ancora non l'avevo utilizzato per niente. E lo vado a mettere qua, prima dell'altra sfumatura. Le levo sempre lo specchio. Prima del marroncino, diciamo. E lo sfumo anche lui nella piega, insieme agli altri ombretti. Non si rompono i trucchi di mamma. Vedete? C'è il marrone, c'è il verde. Questo verde è veramente bello. Io di solito non mi trucco mai di verde. Avrei dovuto legare i capelli finificati. Credo che alla fine il viola non lo so se lo utilizzerai. Voglio però ancora di più intensificare la piega dell'occhio, quindi vado a riprendere Sofia. Anzi, metto anche un po' di olidio che è il marrone più scuro della palette. Col pennello avevo preso Oprah. Vado a fondere tutti i colori insieme. Guardate che belli sfumatori che vengono fuori. Io sto molto uscendo dalla mia comfort zone con questo trucco perché, come vi dicevo, i colori che ho stato finato adesso sono più quelli sul rosa. Allora, con il pennellino piatto di questi, vado a prendere Meril, che è il dorato di cui vi parlavo prima. E lo vado a mettere nell'angolo interno. Guardate che bello. Però magari nella parte centrale voglio utilizzare un altro colore. guardate, è un dorato bellissimo. Questo per le teste. Guardate che luminoso. Vado ad utilizzare, quasi quasi, questo colore qua, Gustav. Che è questo qua. Perché mi piace. Ho sempre lo stesso pennello, tanto. Questo qui è proprio più verde. e li vado a unire insieme. Ripeto un po' di marroncino. Vado a rilassare. Allora, sotto, a questo punto, andiamo ad utilizzare un colore sul marrone. e utilizziamo, anche se avrei voluto usare Elton. Allora, utilizziamo Brigitte, che è questo qua, sempre super metallizzato. Oppure, chi se ne frega, e facciamo un bel contrasto con Elton, che è viola. Anche se il rossetto che voglio usare è questo, che è Milf. Quindi, mi butterei su qualcosa che riprende questo colore. Se no, non c'ho a zeccare niente. Allora, facciamo così. Usiamo, sulla parte inferiore, Yaioi, non so che si pronuncia, che è questo. C'è un contrasto un po' diverso, che non c'ho a zecca tanto. Però, andiamo così. Allora, il pennellino piatto, eccolo qua. L'avevo preso per i colori durati. Lo andiamo a usare per prendere questo bel colore, Yaioi. Guardate che bello. Super particolare, eh? Però, nell'angolo interno mettiamo sempre Meryl. Vado a mettere con le dita. Mi sono un po' sdavata. Vabbè, proprio solo sistemiamo. Matita nera. Matita nera. Andiamo a metterla all'interno dell'occhio e anche sopra. Però, andiamo a sfumare con lo sfumino che c'è dietro. Questa è il vigico. Questa è il vigico. come mi piace a me. Per queste cose preferisco gli eyeliner, però oggi volevo utilizzare questa matita. e andiamo a usare il mascara dark love di Clio Mecargo. e andiamo a usare il lavoro di Clio Mecargo. ecco qua. Questo è il risultato del trucco. Adesso vado a farlo anche dall'altro lato. Allora, ho realizzato, ho sistemato la matita e il filmerò che mi sta proprio tanto bene anche di qua. Guardate che bello questo trucco e che lucentezza. È proprio bello. Mi piace un sacco. Vado a mettere un po' di blush che non l'ho messo. E uso questo marroncino malva. però lo metto con le dita perché non ho preso il pennello. Vado a sfumare con le dita. Amari estremi, estremi rimedi. L'ho metto anche di qua. Questo è di chico sempre. E non metto l'illuminante. Ah, sì, sì, lo metto però. Sapete quali metto? Metto Diana. Non c'entra niente in realtà. Forse non c'entra niente. Vediamo. Ma sì, dai. Un po' di questo. Diana. Vedete che c'entra? L'ho metto proprio a poco. A poco. Guardate. Eh? Anche senza specchio, senza specchio. difficoltà pro e appunto come vi dicevo come rossetto vado ad utilizzare MILF di Mulac io quando ci sono questi progetti di youtube per aziende nuove cose acquisto sempre qualcosa perché secondo me sono progetti che vanno assolutamente sostenuti soprattutto mi piace un sacco questo rossetto è un po' secco però è bellissimo utila anche un sacco e niente ragazzi allora questo è il mio trucco finito mi piace un sacco anche se con i colori che ho usato oggi praticamente non ne avevo usato quasi nessuno ovvero avevo utilizzato soltanto i marroni avevo utilizzato Ovidio che è questo marroni scurissimo e avevo utilizzato Sofia questo qua gli altri non li avevo ancora provati e però mi piacciono sinceramente mi piace anche il risultato questa palette mi piace in realtà tanto perché è una palette molto versatile cioè potete farci dei trucchi sia da giorno sia da sera un po' come vi pare e veramente si può fare tutti i giorni io oggi devo studiare in realtà quindi non devo fare assolutamente niente sarò a casa forse uscirò a 5 minuti per salutare una persona insomma niente di che però ci tenevo appunto dato che avevo qualche minuto libero a farvi questo video a farvi vedere un po' questa palette all'azione che io adoro naturalmente farò un video proprio recensione riguardante se faccio così diventa buio se faccio così diventa luce farò una recensione a parte e voglio anche compararla a quella di Clio Makeup perché ho trovato delle differenze a parte insomma il costo a parte la quantità degli omoretti ma anche proprio a livello di qualità e di versatilità di tutto però non mi voglio dire niente ancora perché lo vedrete tutto in uno dei video che uscirà e niente quindi questo è il trucco finito io vi invito a iscrivervi al canale naturalmente vi invito a seguirmi su Instagram dove ho due profili uno è il mio personale dove non c'è niente riguardo a YouTube e un altro solo esclusivamente di YouTube trovate giù i link in info box giù 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 andate a seguirmi perché lì pubblico sempre foto cose quindi avete anche un po' tanti prima di quello che sto facendo vi fate un po' fatti i miei potete diciamolo chiaramente e niente allora noi ci vediamo al prossimo video spero che questo video vi sia piaciuto fatemi sapere se volete vedere altri trucchi con questa palette e niente noi ci vediamo al prossimo video e un bacio ciao